Dirvi che siete meravigliosi, fantastici, è poco. Voglio ringraziare a tutti i miei compagni, a tutti quelli che in tutti questi anni sono stati a fianco a me, in qualsiasi momento. Ho cercato sempre, quando sono arrivato all'Inter, di onorare e difendere questa magia in qualsiasi paese del mondo. Ho imparato insieme a voi, per il vostro amore, per il vostro affetto, amarla e la merò per sempre. Finisce. Grazie, grazie. Ringrazio a mia moglie Pau, ai miei figli, per la bellissima famiglia che abbiamo formato. Ringrazio a mio padre che è in Argentina davanti alla tibù, non ha potuto venire, però è con il cuore. Ringrazio a mia mamma che è dal cielo. Sicuramente è felicissima come me. Ringrazio la famiglia Morati per tutti questi anni e soprattutto per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Ringrazio il nuovo Presidente Toir per darmi la possibilità di continuare in questa grande famiglia che è sempre stato il mio sogno. Grazie a tutti i miei compagni che sono fantastici, quelli di quest'anno, quelli che mi hanno accompagnato durante tutta la mia carriera, che mi hanno dimostrato tantissimo affetto e tantissimo rispetto. E finisce il calciatore, va avanti il uomo. Finisce per me una bellissima carriera, ripeto, difendendo questa maglia che amo veramente. Questa è la mia carriera, ripeto, ripeto, perdono la sua torta, ripeto... Questa è la mia carriera, ripeto... Adesso mi mi hai detto fare altro, non so se lo farò bene o lo farò male, però di una cosa sono certa che difendere l'Inter così come lo fanno in campo grazie vorrei vorrei che amare Walter Samuel Diego Milito Esteban Cambiasso Esteban Cambiasso Luca Castellazzi Luca Castellazzi grazie siete fantastici, meravigliosi vi amo veramente grazie per avermi adottato grazie mille tutta la società tutti quelli che sono stati con me durante questi anni vi amo veramente grazie